Inizia la partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund in giallo. Si gioca nel campo 2, terza giornata, in contemporanea a Barcellona e Manchester City. La partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund. Non fa male. Inizia la partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund. Inizia la partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund. Inizia la partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund. Inizia la partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund. Inizia la partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund. Inizia la partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund. Inizia la partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund. Inizia la partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund. Inizia la partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund. Inizia la partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund. Inizia la partita tra Palermo in maglia nera e Borussia Dortmund. no dammi aggiornamenti tu. 1-0 a Barcellona. Barcellona è un vantaggio 0-0 qui tra Palermo e Dortmund. Qua è viva, qua è viva! E cosa aggiornamenti sul finale di Palermo che abbiamo? No, il finalamento non lo so, no. Eh, Bussia Molla, sì, sì. Rossa, rossa, rosso o blu? Si viene interrotto qualche secondo in quanto i ragazzi del Palermo si confondono con l'arbitro, anche lui in maia nera. C'è la sacca verde del signor Calabria adesso. Doppio palo di buona fede. E' un fiore. Da pure. Ho zeroi la coperàedà dalla scima! Amore! Amore! Cari di que bitli. Siamo dapp'avanti, dapp'avanti siamo! Aspetta, l'hanno preso in testa! Raito! 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 con le mani 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 con le mani